Siamo qui, Luca ci incontriamo in un altro territorio Buon poveriggio Benissimo, ah ecco anche l'organizzatore Vito Vito siamo qui, intanto ti facciamo tantissimi complimenti Niente, passeggiando molti mi stanno chiedendo il programma adesso Ci dite un po' perché noi adesso abbiamo visto gli inviti e tutto Però non ci ricordiamo a memoria il programma che ci avete inviato Ci volete gentilmente così delucidare di quello che succederà adesso, fra poco, domani, tutti questi giorni? Certo, certo, perché no? Allora, intanto iniziamo a prepararci per la partenza Perché ci sono ancora delle altre macchine che sono su strada Quindi mancano circa 18-20 macchine Ci raggiungono sul convento Ora ci spostiamo di qui Seguite la macchina guida naturalmente e ci portiamo sul convento, sul santuario Dove faremo la visita guidata Faremo la visita guidata E visiteremo una grotta giù La fresca è stata trovata a Sant'Avani degli Angeli Una volta fatta la visita guidata ci spostiamo, ritorniamo a Cassano Dove ci saremo ospiti della cantina sociale, cantina gentile Faremo la visita dalla cantina con degustazione dei vini e alcuni prodotti tipici Una volta fatto questo facciamo un giro nel paese E ci portiamo in piazza dove parcheggeremo le nostre auto E dove faremo la visita del centro storico E più tardi, naturalmente intorno alle 20-20-30 inizierà la sagra Quindi ci saranno prodotti tipici, danze tipiche, artisti di strada e quant'altro Insomma, non resta che divertirvi, respirare dalla buona aria E grazie a tutti per essere qui, per aver creduto in questa mia organizzazione Grazie Approfitto per salutare, ringraziare e abbracciare di vero cuore Il Club Astor di Latiano, federato ACI storico Sono stati estremamente gentili nel venire qui Chi c'è del Club Astor? Grazie